Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! La domenica subito dopo Natale è dedicata alla Santa Famiglia. Quest'anno meditiamo sul ritrovamento di Gesù dodicenne tra i dottori nel Tempio. Specchiandoci nella Santa Famiglia proviamo a cogliere tre passaggi che possano aiutarci a livello personale, familiare e comunitario. Giuseppe, Maria e Gesù dodicenne salgono a Gerusalemme nel Tempio per la festa di Pasqua e vi salgono con tutta la carovana di amici, parenti, compaesani, insomma con la comunità credente. La Santa Famiglia dunque in modo semplice e concreto è una famiglia centrata su Dio che cammina insieme alla comunità. Nel viaggio di ritorno da Gerusalemme avviene una cosa inaspettata. Gesù non parte con gli altri ma rimane a Gerusalemme. I suoi genitori se ne accorgono solo alla fine del primo giorno, non perché fossero distratti. Per loro evidentemente era del tutto normale supporre che Gesù si trovasse da qualche parte nella grande comitiva. Di solito i giovani infatti viaggiavano insieme. Questo ci mostra in modo bello che nella Santa Famiglia libertà e obbedienza erano ben conciliate l'una con l'altra. Siamo ben lontani da certi modelli di padri assenti o turisti, così ogni tanto casualmente si aggirano per casa, o da certe mamme tipo la Piovra 5, onnipresenti e asfissianti. Ora, Giuseppe e Maria a fine giornata non trovano Gesù e in preda all'angoscia prima lo cercano tra amici e parenti, poi tornati indietro lo trovano nel tempio al terzo giorno mentre interrogava e discuteva con i dottori della legge. Maria e Giuseppe sono angosciati per lo smarrimento di Gesù. Perché? Chiaramente perché è loro figlio, il figlio di Dio che è stato affidato loro. Potremmo dire perché per loro è la cosa più importante. E per me cosa è davvero importante? Cosa conta davvero nella nostra famiglia? Per Maria e Giuseppe Gesù è irrinunciabile e hanno ragione, è lui la fonte della vita, dell'amore. Maria e Giuseppe lo cercano con tutto il cuore come a dirci se hai perso di vista il Signore, se non cogli più il senso del tuo matrimonio, se ti stai incartando e chiudendo in balia di te stesso. Se amore nel cuore sembra che non ci sia più, c'è da tornare a Gesù. Se tante famiglie oggi crollano è perché si pensa di poter costruire il per sempre senza l'Eterno. Il sacramento del matrimonio è una via al cielo. Come si può pensare di percorrerla se manca il cielo nel cuore? Quante persone sono rifiorite lasciando spazio a Dio nella loro vita? Quante coppie sono rinate? Da quante ceneri sono sorte le gemme più belle? Quanto è importante dunque coltivare la presenza di Dio nelle nostre famiglie? Perciò già diversi anni fa Paolo VI chiedeva, mamme, le insegnate ai vostri figli le preghiere del cristiano? Li preparate i sacramenti insieme ai sacerdoti? Li abituate se malati a pensare a Cristo sofferente? A invocare l'aiuto della Madonna e dei Santi? E voi papà, sapete pregare con i vostri figlioli, con tutta la famiglia almeno qualche volta? Ad esempio prima dei pasti o la sera per ringraziare il Signore della giornata? Ricordate, il vostro esempio vale una lezione di vita. Molto bella la testimonianza del Franco Nembrini che diceva, quando mio padre alla sera veniva a far pregare noi bambini, che ci tiravamo i cuscini come tutti i bambini, lui non entrava sbraitando dovete pregare, pregava lui. Si metteva in ginocchio e cominciava, padre nostro che sei nei cieli. Potevamo avere tre anni o sei, ma questa immagine ce l'ho stampata in testa, perché io che stimavo così tanto mio papà, quando lo vedevo inginocchiarsi mi chiedevo chi fosse così grande da meritarsi mio padre in ginocchio. Perché i giovani rimangano in piedi, ci sono genitori che devono capire l'importanza di mettersi in ginocchio, di far entrare Gesù nella propria famiglia e con Gesù i valori del Vangelo nelle scelte di tutti i giorni. Poi i figli fanno il loro mestiere, cioè guardano, scelgono, decidono, rischiano. Per educare servono poche parole e tanti fatti. Andiamo avanti. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù. Maria dice figlio perché ci hai fatto questo? Tuo padre io ho angosciati, ti cercavamo. Questa espressione di Maria è una scuola di delicatezza. Notate? Interpelle il figlio, chiede perché si sia comportato in un certo modo, dà voce ai sentimenti anche di Giuseppe e antepone Giuseppe a lei con una femminilità squisita. La risposta di Gesù è perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Gesù non si scusa per quell'angoscia che può aver procurato. Lui antepone a loro il rapporto con il padre suo. Questo ragazzo che fa questa affermazione è lo stesso che subito dopo seguirà i genitori, restando loro obbediente sulla via di Nazareth. Il cardinale Ravasi diceva qui c'è qualcosa che può essere vissuto in ogni famiglia. Se il figlio deve saper accogliere con rispetto e devozione l'amore dei genitori, i genitori devono sapere che il loro figlio ha un destino che essi non possono determinare. Che significa? Che ogni figlio e figlia è chiamato ad amare il genitore ma ad anteporgli l'amore per il creatore, cercando al di sopra di tutto la volontà di Dio, che è il vero bene di ciascuno. E il genitore è chiamato ad educare il figlio, a tirar fuori la verità che Dio ha scritto nel suo cuore, aiutandolo a realizzare la sua missione. Non pretendere che il figlio faccia ciò che vuole il genitore. Della serie è nato mio figlio, già l'ho iscritto all'università, gli ho già preparato la casa e il lavoro che dovrà fare. E se il figlio e la figlia non fanno quello che voglio io, apriti cielo. Peggio ancora se sentono una chiamata al sacerdozio, alla vita consacrata. Musi, rabbie, nervosismo, neanche il figlio avesse scelto di diventare gangster. Tutto perché? Perché il figlio e la figlia non portano avanti il progetto del genitore. Capite bene che dietro la chiamata di un figlio in questo caso c'è la crescita anche del genitore, perché il figlio non è un possesso, è un dono che Dio ti ha affidato perché tu lo aiuti a sbocciare, a crescere e a spiccare il suo volo. Terzo e ultimo passo, davanti alla risposta di Gesù, Maria non comprese, ma conservò tutto nel suo cuore. Come ha detto Benedetto XVI, anche la fede di Maria è una fede in cammino, che si trova nel buio e attraversando il buio deve maturare. Anche Maria ha dovuto affrontare la fatica della fede, l'entrare nel mistero del figlio di Dio, di un figlio che non le apparteneva e che la chiamava a seguirlo, alzando l'asticina della sua fede. L'atteggiamento di Maria, che non capisce ma custodisce nel cuore e segue, è ciò che siamo chiamati a vivere. A volte viviamo cose particolari, anche cose dolorose, che non sono subito chiare. Noi abbiamo la tentazione di scartare ciò che immediatamente non capiamo. Maria le custodisce, ne fa una sintesi nel suo cuore e a suo tempo giunge a comprendere. Questo evento e queste parole le aiuteranno a leggere, ad affrontare i giorni della passione morte, dove ci sarà una ricerca ancora più angosciosa di Gesù, risorto il terzo giorno e alla luce di quell'evento prenderanno un senso più profondo, un senso nuovo. Ecco, potremmo dire che le cose più importanti si comprendono e crescono nel tempo. Mi piace concludere con un bel esempio di Padre Pio, che diceva, quando io ero piccolo mia madre era solita ricamare. Io osservavo il lavoro di mia madre da un punto di vista più basso rispetto a dove stava seduta a lei, dunque io mi lamentavo dicendole che dal mio punto di vista ciò che stava facendo mi sembrava molto confuso. Lei mi sorrideva, guardava verso il basso e gentilmente mi diceva, figlio mio, vai a giocare fuori un po' e quando avrò terminato il mio ricamo ti metterò sul mio grembo e ti lascerò guardare dalla mia posizione. Alcuni minuti dopo mi chiamava, dicendo, figlio mio, vieni qui e siediti sul mio grembo. Io lo facevo e immediatamente mi sorprendevo ed emozionavo al vedere i bei fiori o il bel tramonto nel ricamo. Non riuscivo a crederci, da sotto si vedeva così confuso. A volte nella vita capiamo che Dio opera, ma non vediamo bene come. Quando sarà il momento, nell'arco di questa vita o nell'altra, allora sì che vedremo tutto chiaramente e loderemo il Signore, riconoscendo come abbia fatto concorrere ogni cosa per il bene di coloro che lo amano. Cari fratelli e sorelle, che il Signore ci aiuti affinché sia Lui la nostra unica e vera ricchezza, a non anteporgli nulla e a seguirlo, fidandoci di Lui anche quando tutto non è chiaro. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.